In un pomeriggio di incerto cielo e nuvole fameliche di sole, Bitonto ha commemorato la signora Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di uno scontro armato fra clan mafiosi il 30 dicembre di tre anni fa. Tutte le massime autorità istituzionali e i rappresentanti delle forze dell'ordine, con una breve ma toccante cerimonia ed un significativo corteo per le strade del borgo antico, hanno reso doveroso omaggio, anche Floreale, alla Sarta, che si vide strappare la vita sotto l'arco di Via Le Martiri, ad un sospiro da casa sua mentre rientrava dalla messa mattutina. In chi ti ha conosciuta e amata, cresce la rabbia per il tragico modo in cui sei stata strappata la vita, perché il tempo non lenisce il dolore, non colma il vuoto che hai lasciato, hanno sottolineato commossi nipoti. Per il sindaco Michele Abaticchio, con la morte ingiusta, è stato il primo passo del cammino, certo non facile, che sta conducendo la comunità bitontina verso una più convinta unità contro ogni tipo di mafia. Tutto quello che è accaduto possa essere di insegnamento per il futuro e di ritrovare un po' di offuscato da questa pandemia di orgoglio di cittadini nel contrastare organizzazioni criminali con l'unico potere che noi abbiamo in mano, quello della denuncia. Poi le forze dell'ordine fanno il resto e oggi la loro presenza dà un minimo conforto. Io come sapete ho chiesto più attenzione a Bitonto nell'ultimo comitato di sicurezza per l'ennesima volta, perché questo territorio è troppo vasto per essere monitorato con attenzione dall'attuale numero contingentato. Io mi rendo conto che ci sono esigenze da parte di tutti gli altri territori, però qui secondo me lo Stato si gioca a una partita importante. Il consigliere politico del governatore Emiliano, Giovanni Procacci, considera il sacrificio della donna qualcosa di cui dobbiamo ogni giorno essere tutti quanti all'altezza. Lei è stata una vittima inconsapevole della follia omicida in un momento in cui, voglio ricordare a Bitonto, in quella mattinata si sparò a dieci minuti di distanza in ben quattro luoghi. La codardia e la viltà di chi si fece scudo ha determinato la sua morte. Quello che invece Rosa Tarantino ha fatto, involontariamente e indirettamente, ma con il suo candore innocente di vittima è di aver dato una scossa alle istituzioni e di aver detto e di dire ancora oggi che davanti ad eventi eccezionali lo Stato sa reagire e infatti sono stati assicurati alla giustizia tutti coloro che furono artefici di quella tragedia. Ma quello che noi cerchiamo e quello che ancora oggi Anna Rosa Tarantino ci dice è che abbiamo la necessità di una risposta ordinaria, organica, quotidiana di tutte le istituzioni. Annina la sartina, così la ricorda l'ex consigliere regionale Domenico Damascelli, che a noi rassegna memorie affettuose e riflessioni amare. Spero che il sacrificio che Anna Rosa ha fatto per tutta questa comunità sia ripagato da un vero cambiamento culturale ed è un cambiamento serio in questa straordinaria città che ha bisogno di più serenità. Io ringrazio di cuore il lavoro che tutti i giorni le forze in ordine mettono in campo per difendere l'incolumità dei cittadini e Anna Rosa Tarantino, Annina la sartina, io la ricordo così perché era la sarta della mia famiglia, ha cucito i primi abiti, i miei primi abitini quando ero piccolino e quindi ricordo con grande affetto questa figura materna così come sono vicino alla famiglia.